Stop agli scempi ambientali e agli ecomostri, più tutela d'ora in poi su bellezze naturali e paesaggio. Lo assicura il nuovo piano paesaggistico della regione, un lavoro monumentale che racchiude regole, obblighi e divieti statali sul territorio. 165 vincoli decretati in difesa di patrimoni riconosciuti, ad esempio San Giovanni Rotondo, Polignano a mare, le isole Tremiti e l'insieme dei divieti della legge Galasso, non alla cementificazione a meno di 300 metri dal mare o 200 dai laghi e 150 dai corsi d'acqua. E poi la tutela di aree archeologiche, parchi naturali, zone di interesse. Il piano si avvale di una cartografia aggiornata e consultabile su internet. All'interno i perimetri di interesse e i tipi di intervento consentiti su costruzioni, strade e insediamenti produttivi. Comuni, imprese, cittadini, operatori turistici dovranno adeguarsi per ottenere i permessi a costruire. Il piano contiene poi cinque aree strategiche. La mobilità lenta, il patto campagna città, la riqualificazione delle coste, la valorizzazione dei beni culturali, la rete dei parchi regionali. Siamo fuori dal Medioevo, commenta orgoglioso il governatore Vendola, ricordando la prima adozione del piano di assetto idrogeologico. E' un piano che noi ci auguriamo sia attuato non solo dagli enti locali che dovranno adeguare la propria strumentazione urbanistica, ma anche per tutti coloro i quali operano nel territorio. Dagli agricoltori, agli artigiani, agli operatori turistici che devono avere a cuore la qualità del paesaggio pugliese. Grazie.